Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di sabato 17 dicembre con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Lazzaro Vescovo, fratello di Marta e di Maria. Noi apriamo, come sempre, questo appuntamento con le prime pagine dei nostri quotidiani, partendo dalle quattro edizioni del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli principali. Sì, terremotati nel cuore del Parlamento, in Pullman dall'Aquila e Teramo, parla la presidente Boldrini che dice che i nostri figli meritano un paese più sicuro. E poi le cronache, siamo a Pescara, via dei Gasperi, cittadini pronti a bloccare le auto. E poi si parla del concerto di Capodanno che si terrà, come sempre, a Pescara in Piazza della Rinascita il 31 dicembre. Saranno in egrita proprio a tenere il concerto dell'ultimo dell'anno. E poi Montesilvano, Bullo 12enne, prende a pugni i compagni. E poi si parla di giustizia, di tribunali. Il sottosegretario uscente Chiavaroli, come salvare i tribunali? Siamo ancora in tempo, ma ci vuole una proposta unanime delle Camere. E poi in alto, Guccini e Davezano, Granzasso e Maiella, come la mia Emilia, parla il cantautore che ha incontrato gli studenti marsicani. E poi un articolo, anzi una doppia pagina, pagina 6 e 7, che parla di calcio, fallimenti e fughe. Regione nel pallone, l'ultimo crack proprio in ordine di tempo. E' quello del Chieti, che è stato dichiarato fallito dal tribunale. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro. Andiamo a vedere insieme, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di Chieti-Lanciano-Vasto. Poi, come sempre, vedremo anche le edizioni di Teramo, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Allora, siamo all'edizione di Chieti del centro. Il titolo principale riguarda sempre l'incontro del Presidente del Parlamento con i terremotati della nostra regione. Poi vediamo invece i titoli in approfondimento che troveremo all'interno del quotidiano. Chieti, sosta selvaggia sui marciapiedi dell'ospedale. Vedete questa foto scattata dal fotografo del centro. Poi si parla dell'omicidio di Chieti, l'omicidio di Marco Cipressi. E' stato ascoltato dal PM. Poi San Salvo, la Pilkington, solidarietà e ferie lunghe. E poi, vedete, in basso, torniamo all'argomento di cui parlavamo qualche istante fa, calcio serie D, nero-verdi. Domani non si gioca, non si disputerà. Infatti la gara in programma, in calendario all'Angelini, tra il Chieti e l'Alfonsine. Per quanto riguarda le altre abruzzesi, in particolare la Vastese, che, seconda in classifica, giocherà in trasferta al Civitelle di Agnone, con 500 tifosi al seguito. E andiamo ora a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Anche in questo caso, oltre al titolo principale, che riguarda sempre la visita di ieri degli abruzzesi in Parlamento, vediamo le notizie in cronaca. Villa Rosa di Martinsicuro, revocato il sequestro del Grillo. E poi a Teramo, rissa notturna per una ragazza, denunciati in 5. Giulianova, differenziata da record, e oltre il 70%. E poi in basso, dopo il terremoto, a Teramo le case in affitto non bastano, e la paura fa crollare le compravendite in centro storico. Possiamo chiudere con l'ultima prima pagina del centro, che è quella, come vi dicevo, di L'Aquila-Avezzano-Sulmona. Poi vedremo anche la prima pagina del messaggero, e successivamente, più avanti, vedremo anche la prima pagina del quotidiano La Città. Andiamo a vedere ora la prima pagina, edizione dell'Aquila, del centro. In questo caso c'è sempre il titolo principale, che riguarda la visita in Parlamento dei nostri corregionali. E poi all'Aquila, invece, Biasini assolto al processo per Drancheta. e poi Camera di Commercio, acquisto arredi, ditte locali, contro l'ente. Poi ad Avezzano si parla di sanità, neurochirurgia, un patto tra i sindaci. Lasciamo dunque le quattro edizioni del centro. Andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione della prima pagina, l'edizione odierna, in edicola del messaggero, ovviamente relativamente all'inserto Abruzzo, che vedremo tra qualche istante, così daremo uno sguardo anche ai titoli principali. Ecco qui la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il titolo principale riguarda l'acqua contaminata nel Terramano, parliamo dell'acqua del Gran Sasso. Scatta l'emergenza nel Terramano, captazione idrica ridotta per la presenza di diclorometano. I laboratori del Gran Sasso sospendono l'uso di un solvente. La Ruzzo, nessuna traccia in rete. Poi vedremo due servizi in merito a questo argomento. Vediamo gli altri titoli sulla prima pagina del messaggero. Le mani della Cosca sugli appalti, prima condanna del post-sisma all'Aquila. E poi in basso, Corte Costituzionale. La Regione paghi i servizi ai disabili. In alto ci sono delle notizie che riguardano lo sport e non solo. Pescara, le letterine dei bimbi a Santa Claus, ti prego proteggici dal terremoto. Poi giochi di luce, Piazza Salotto a Pescara, l'arte disegna le facciate. Poi lo sport, in questo caso il Pescara, la Serie A, nella sfida con il Bologna, Oddo pensa ad un nuovo modulo. Dunque il tecnico Biancazzurro è pronto a cambiare ancora il Pescara per cercare di conquistare una prima vittoria in campionato che sarebbe fondamentale per continuare a sperare nella salvezza. Noi lasciamo la prima pagina del messaggero. Andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, come sempre anche i titoli dei quotidiani nazionali, oggi in edicola, per vedere quali sono in questo caso gli argomenti in chiave nazionale che sono affrontati nei giornali che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dal quotidiano della CEI Avvenire, capitali sotto scacco, Roma colpo a raggi, arrestato il suo braccio destro, Milano, sala indagato, si sospende, rischio paralisi. E poi Corriere della Sera, arresto a Roma, Grillo, scarica raggi, in cella l'uomo forte del Campidoglio, le telefonate sono a disposizione, sala riflette sul rientro. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano, anche in questo caso notizie di politica e giudiziaria che si incrociano, una retata li seppellirà. Dopo il referendum salta il tappo delle inchieste. Sulla politica Milano, sala indagato, si sospende, Roma arrestato Marra, fedelissimo della Raggi. Siamo al Gazzettino di Venezia, Roma, arresti shock, bufera nel Movimento 5 Stelle, in carcere Marra, braccio destro della Raggi. Il sindaco in bilico, Grillo, la scarica, te l'avevo detto, adesso rimedia. E siamo al giornale, scandalo 5 Stelle, titola il quotidiano milanese, capitale corrotta, grillini infette, arrestato il braccio destro della Raggi, trema tutto il movimento e Milano resta ostaggio dei PM e di sala. Sala, proseguiamo il manifesto, il titolo che vedete con corredo di foto, dalle stelle alle stalle, si parla di quello che sta accadendo a Roma, a metà pagina, più in basso, e sala autosospeso, spiazza tutti. Dunque, problemi per i due primi cittadini, delle due più importanti città del nostro paese, della capitale, di Milano. E siamo al mattino di Napoli, Roma, l'arresto che scuote i grillini, in carcere per corruzione marra, uomo di fiducia della Raggi, il sindaco in bilico, dice. Chiedo scusa. E proseguiamo, il messaggero di Roma, Raggi in bilico, Grillo, la scarica, arrestato per corruzione marra, il GIP, dice, uomo di fiducia del sindaco. Tangenti dal costruttore Scarpellini, Virginia si scusa, ma è solo uno dei 23 mila dipendenti. Terremoto, Movimento 5 Stelle, il leader, te l'avevo detto, ora rimedia. Siamo al secolo XIX, Roma, resta dei conti, nel Movimento 5 Stelle, l'arresto di Marra, Raggi resiste, Grillo pronto a mollarla, ora rimedia, gli appalti expo, sala, sindaco di Milano congela le deleghe, la procura, disposti a sentirlo. E poi una foto che riguarda Papa Francesco, oggi il compleanno del pontefice, che compie, 80 anni, 80 anni rivoluzionari, così vengono definiti dal secolo XIX, il tempo di Roma, Marra Christmas, che è Natale per la Raggi, dalle perquisitioni all'arresto del fedelissimo Marra, il Movimento 5 Stelle la vuole cacciare, lei, resto, colpa dei grillini, che mi remono contro. E poi c'è la confessione, bomba di Labocchetto e magistrati, ora vi racconto, ora basta, vi racconto i legami tra Fini e Corallo. Siamo all'osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede, parla soprattutto in prima pagina di politica internazionale, la guerra in Siria, in attesa di lasciare Aleppo, e poi prove di accordo tra Tokyo e Mosca, dunque fra Giappone e Russia, e poi in basso vedete l'udienza che il Papa Francesco ha dato al Presidente della Colombia. Siamo all'unità, cade la maschera dei grillini, arrestato Marra, uomo forte del Campidoglio, il GIP, dice pericoloso, ha la fiducia della Raggi. Saviano, ora la sindaca, lasci, Grillo in difficoltà, non placa la rivolta. Fra i 5 Stelle, gazzetta del Mezzogiorno, altra bufera sul Campidoglio, arrestato Marra, braccio destro della Raggi, lei, abbiamo sbagliato, Grillo, Virginia, rimedia, Milano, il sindaco indagato, si autosospende. E siamo al quotidiano della Repubblica, Roma, Raggi isolata dopo gli arresti, Grillo dice alla sindaca, è solo colpa tua. E poi vedete anche sul Repubblica l'augurio, l'articolo per gli 80 anni del Papa, delle pontefice Papa Bergoglio, Francesco che cammina sulle tracce di Agostino. E siamo alla stampa di Torino, Roma, i grillini processano Raggi, la sindaca dopo l'arresto di Marra. Andiamo avanti, Grillo pronto a scaricarla. Poi nella parte centrale, di taglio basso della prima pagina della stampa, si parla della vicenda Mediaset Vivendi, primo incontro. Il manager francese cerca il dialogo, ma riceve una risposta di cortesia in campo. Anche il ministro calenda. E siamo alla verità, Roma e Milano nel caos, dopo il governo cadono le capitali. Siamo al quotidiano libero, I grillini se ne sono accorti e la mollano. Oca del Campidoglio, questo è il titolo un po' ad effetto del quotidiano milanese, che parla ovviamente della vicenda che ha colpito nelle ultime ore la capitale. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in esame. Poi nella seconda parte vedremo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi, che sono oggi in edicola. Possiamo ripartire dal centro per andare a vedere ovviamente le pagine interne in chiave regionale. Partiremo dalle pagine che riguardano proprio l'Abruzzo, per poi entrare nella seconda parte a leggere insieme le pagine che riguardano invece le varie province. Pagina 2 del centro, l'Abruzzo in Parlamento, terremotati in aula, segnale di vicinanza, musica e brindisi per 900, con la Presidente della Camera. E c'è proprio l'intervista, pagina 3, al Presidente Laura Boldrini, che dice la prevenzione è la vera grande opera da fare. E poi l'Abruzzo in Tribunale, siamo ancora in tempo, serve una proposta unanime. Parla la senatrice del nuovo centrodestra, sottosegretario alla giustizia del governo Renzi, e parla del destino degli uffici giudiziari minori della nostra regione. Chiavaroli dice ancora, per salvare le sedi occorre una modifica della legge. In questa pagina c'è l'intervista all'ex sottosegretario. E poi questa doppia pagina interessante, che riguarda l'Abruzzo nel pallone, l'economia non va e la classe imprenditoriale non riesce a finanziare il mondo professionistico. 30 anni di buffi e faccendieri, fallimenti e fughe. La regione non regge i costi del calcio. Vedete in questo specchietto un po' la storia dei club che sono scomparsi, che hanno dovuto far fronte a dei fallimenti. L'Avezzano nel 1998 non si iscrive alla Serie C2. Il Castel di Sangro nel 2005 retrocede in Serie D e poi non si iscrive. Chieti fallito nel 2006 e poi dichiarato fallito pochi giorni fa a distanza di 10 anni. E poi Pescara, ricorderete il fallimento del 19 dicembre 2008 con la squadra in Lega Pro. E poi il Giulianova che nel 2012 non si iscrive alla seconda divisione. Il Teramo che nel luglio del 2008 non si iscrive alla C2. Poi l'Aquila nel 1994, il club Rossobuc viene radiato per problemi finanziari. E la Rosetana nel 2005, esclusa dal campionato di Serie C2, si iscrive al torneo di promozione. Infine Lavastese nel 1981 viene dichiarata fallita. Vedete quanto è accaduto negli ultimi 20-25 anni nella nostra regione. E poi ci sono altri articoli. Valle del Giovenco viene definita una lavatrice di soldi dal 2005 al 2010 dai dilettanti alla Lega Pro con il denaro dei fondi neri della galassia finmeccanica. E poi chi resiste e chi ha mollato resiste il patron del Teramo Campitelli che dice servono più soci per portare avanti un progetto. E chi ha mollato, Crisci, ex presidente della Vastese che dice il calcio è come una droga se ti prende la mano e la fine. Proseguiamo. Questi sono ovviamente i titoli di carattere nazionale su quello che sta accadendo. L'abbiamo visto a Milano e Roma. Possiamo arrivare alle pagine che riguardano la cronaca regionale. Si parla di economia di lavoro, meno vincoli per dare più lavoro. L'incontro di ieri pomeriggio a Pescara. D'Alfonso presenta la legge facilissima per le imprese. Dibattito pubblico con il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, con il capo della Polizia Gabrielli, con Miele ed Amicuzzi. Miele che ha parlato proprio della nostra regione da un punto di vista economico e giudiziario. Tommaso Miele, presidente del Tarrabruzzo. E poi abbiamo detto Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato. E poi consulta, trasporto di sabili, bocciata la norma regionale. In basso per il genio civile arrivano nuove regole. La regione recepisce la riforma Madia. Barattelli del Lancia dice risolto al radice il blocco burocratico. E poi si parla dei giornali studenti. In questa doppia pagina, pagina Guccini, cantautore che è venuto nella nostra regione. L'Abruzzo è come la mia terra, il cantatore emiliano si racconta incontrando gli studenti in una scuola di Avezzano. Siamo alla cronaca di Pescara, dunque passiamo alla cronaca delle province. Emergenza Smoghi, residenti di Via De Gasperi, dicono bloccheremo il traffico. Problemi per i tanti transiti di auto nella centrale via che si trova proprio a Pescara. E poi si parla di raccolta, arriva la nuova ricicleria, raccolta del pattume e la differenziata raddoppia. Il Comune infatti dà il via al progetto per un secondo impianto dei rifiuti in Via Prati. Marcheggiani, assessore del ramo, dice la raccolta dei materiali riciclabili raggiungerà quota 65%. E poi si parla del problema sicurezza in città, dopo gli ultimi furti, quelli che reagiscono pronti a rischiare la vita contro ladri e rapinatori. C'è questo servizio con interviste a imprenditori e commercianti. E poi pratiche per i negozi, le associazioni bocciano gli aumenti, confartigianato pronta a scioperare durante le festività. Confcommercio contesta il Comune e chiede un incontro. E poi sindacati contrari al polo scolastico classico da Vinci. C'è stata ieri questa conferenza stampa, vi abbiamo proposto a tal proposito, ieri nel corso dei nostri Tg, un servizio. C'è questo programma di dimensionamento in alcune scuole di Pescara e della provincia che vede la netta contrarietà dei sindacati. Andiamo ancora avanti. Le letterine, caro babbo Natale, aiuta mio papà a trovare un lavoro. Le letterine dei bambini della primaria Rodari, ospiti di poste italiane. E poi il capodanno in piazza con i Negrita, la famosa band italiana in concerto a Pescara la notte del 31 dicembre. Fra gli eventi di rilievo anche il videomapping. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano, aiuti alle famiglie in difficoltà, asilo nido, rette ridotte del 20%. E poi una notizia luttuosa che riguarda un uomo di 44 anni, ma l'ora in auto, muore a 44 anni. L'uomo era un volontario della Croce Verde Abruzzo di Montesilvano. In basso si parla di solidarietà con la Fidas che festeggia i 12.217 donatori. Siamo ancora a Pescara e Provincia, Montesilvano, bullo di 12 anni, picchia i compagni, aggredisce due coetani davanti alla scuola Troiano Delfico e intervengono i carabinieri. E poi nella pagina seguente, premio Mumi e Blue Bar, Francavilla aspetta le star per le prossime festività. Poi San Giovanni Tiatino apre la casetta di Babbo Natale, arriva anche la banda, Cepagatti, Mercatino, giochi e buffet al Palazzetto dello Sport. Tante le iniziative in vista del Natale in molti centri della nostra regione. Restiamo ancora in provincia di Pescara, l'area vestina in questo caso, l'outlet Brioni verso la chiusura. I quattro dipendenti saranno ricollocati, penne, lo store di Contrada Cirolo dovrebbe sparire entro il prossimo febbraio. E poi a centro pagina acqua da bussi, nuovi disagi e riparazioni. E poi a Popoli il centro trasfusionale riduce le prestazioni, sempre Popoli. La riserva avrà il suo piano regolatore. Siamo alla pagina di Chieti del centro. Partiamo dal titolo in alto, delitto allo scalo. Cipressi risponde al PM, primo interrogatorio dell'indagato per l'omicidio del musicista Di Marco accaduto in via Pescara. Centro pagina, parcheggi selvaggi su aiuole e rotonde. Chieti, caos al policlinico, traffico bloccato dalle auto in doppia fila che invadono anche l'area del pronto soccorso. E poi una notizia che arriva da San Salvo, ferie lunghe alla Pilkington. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila del quotidiano il centro. Mafia e appalti, processo drangheta, assoluzione per Biasini. L'imprenditore scagionato dopo settimane passate in carcere, ma il tribunale ha inflitto una pena di otto anni e mezzo al reggino Ielo. E poi in basso, ad Avezzano, si parla di sanità, neurochirurgia, patto fra sindaci. Di Prangrazio, il sindaco dice, va riaperta subito, siamo di fronte ad una omissione. Poi sul Mona, il comune concede i fondi alle famiglie dei nuovi poveri. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Dopo il terremoto, le case in affitto non bastano più e nessuno compra edifici vecchi. Il mercato immobiliare del doposisma conferma la fuga del centro storico. Chi può, va sulla costa e sulla situazione post terremoto nella città aprutina. Andiamo a vedere il servizio realizzato da Elisa Leuzzo. Cresce l'emergenza abitativa a Teramo. Gli sgomberi sono arrivati a quota 500. Le aree più colpite sono quelle periferiche. Una soprattutto che, con il passare dei giorni, sta diventando un quartiere fantasma. Si tratta di Collaterrato, zona gran parte occupata dalle palazzine popolari. Oltre 120 le famiglie rimasse senza casa. Per molti di loro è un dramma. Oltre l'incertezza sul futuro, il problema principale sono i soldi. Gli sfollati hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione per pagare l'affitto di altri alloggi, ma i fondi della protezione civile non arriveranno subito, pertanto le famiglie sfollate dovranno anticipare le spese. I primi rimborsi saranno distribuiti con i 250.000 euro ottenuti nei giorni scorsi dal Comune, destinati a coprire i costi della prima emergenza, ma la somma non basterà a saldare il conto di tutte le famiglie costrette a traslocare. Ad oggi sono 500 le ordinanze di sgombero firmate dal Sindaco in un mese e mezzo di controlli successivi al sisma. Solo nella giornata di ieri sono stati 7 i provvedimenti firmati, 11 le famiglie obbligate a lasciare le loro abitazioni. E le ordinanze di sgombero sono in crescita anche nei Comuni dell'Entroterra. Nel Comune di Cortino sono state emesse 280 ordinanze. A Rocca Santa Maria sono 85, con ancora 82 sopralluoghi da effettuare. A Tossicia le ordinanze sono 140 e le verifiche non sono ancora terminate. 80 sfollati a Castelli, dove molte attività del borgo, botteghe artigiane, hanno dovuto chiudere. Intanto, con il via libera dell'Aula di Montecitorio, la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto sul terremoto. I centri abruzzesi del cratere sono 14, 11 in provincia di Teramo, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Montorio, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, oltre a Teramo Città, e 3 in provincia di L'Aquila, Montereale, Campotosso e Capitignano. Nel decreto, contributi a privati e imprese, sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze, energia elettrica, acqua, gas e il canone RAI. Inoltre, è prevista la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi ai singoli soggetti danneggiati fiscalmente domiciliati nei comuni del cratere. In ognuna delle regioni colpite è prevista l'istituzione di un ufficio speciale per la ricostruzione. La sede abruzzese dovrebbe essere a Teramo. La regione Abruzzo, inoltre, si è impegnata ad aiutare anche i comuni terremotati del Teramano e dell'Aquilano che non sono rientrati nel cratere sismico. Ancora dalla pagina di Teramo del centro, si parla ancora del post-terremoto, momento difficile ma restiamo in città. L'appello di sfoglia, storico negoziante e vicepresidente di Confcommercio, rimasto senza casa. E poi la cronaca in basso, rissa per una ragazza, 5 denunciati. Calci e pugni davanti ad un locale terramano, dopo gli apprezzamenti pesanti rivolti al giovane. Lasciamo il centro, passiamo al messaggero, anche in questo caso, per andare a vedere le notizie che riguardano le nostre province, partendo ancora una volta dalla cronaca di Pescara. Poi, come sempre, nell'ultima parte, e in particolare del nostro appuntamento odierno di mattino 6, parleremo di sport, parleremo delle formazioni abruzzesi, del Pescara, in particolare impegnato domani in una gara fondamentale per il proseguo della stagione in casa, lo stadio adriatico con il Bologna. Poi parleremo di quello che sta accadendo a Chieti, con la squadra nero-verde, che domenica non scenderà in campo nella gara di campionato con Alfonsina. Allora, ripartiamo dal messaggero, Confindustria unica avanti ad agio, la secessione adriatica congelata, grazie alla mediazione del presidente Ballone. Poi, in prese sprint, il pacchetto di D'Alfonso convince categorie Gabrielli, capo della Polizia di Stato, e il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini. Siamo la cronaca di Pescara, la testimone che fa scattare l'arresto, la cronaca giudiziaria, in questo caso avvicinata dal medico Vincenzo Berghella, per aggiustare le sue dichiarazioni sulle mazzette per le pratiche di invalidità. Il professionista ha i domiciliari, il GIP dispone l'aggravamento della sospensione per il rischio di inquinamento delle prove. E poi ancora cronaca in basso, rogo nella notte lungo il fiume, una barca distrutta, indagini in corso, e poi si parla di rifiuti, riprende quota il progetto della ricicleria. Proseguiamo, Piazza Salotto, l'arte disegna le facciate, Pescara Mapping torna in versione festival, al tramonto del 23 dicembre, le prime proiezioni sul palazzo Arlecchino. E poi, Massacra i compagni, l'uscita di scuola, fermato un dodicenne terribile, a Montesilvano, dai carabinieri. E poi, Babbo Natale, fai finire il terremoto, queste le letterine dei bambini della scuola elementare, raccolte ieri da Poste Italiana. Abbiamo visto l'articolo anche dal centro. Siamo all'Aquila, le mani della Cosca sugli appalti, Maxi condanna a Francesco Ielo. E poi il professor Marco Valenti, via dal Senato accademico, si parla di università. Poi la cronaca, dallo Spinella uno studente, Puscher arrestato in flagranza di reato. E poi, in basso, il procuratore di Lecce Motta, attenti alle cattive imprese. Fine, si parla di Lirica, Talamo e Varela Estrella. Il gran galà, al ridotto del teatro. Ancora, cronaca dall'Aquila, Genio Civile ok, la ricostruzione riparte. Poi Anime Sante, altri fondi, il recupero non si ferma. In basso, si parla di commercio, cioni, non solo i commercianti, anche uffici comunali. In centro, proseguiamo. Acqua Santa Croce, Colella ci riprova. Dell'attuale concessionario, una delle quattro offerte presentate per continuare a imbottigliare l'acqua a canistro. E poi Avezzano, schianto, paura per l'imprenditore Lombardi. Ancora ad Avezzano, cittadina onoraria per il professor Natalino Irti. Sul Mona, il Cescot offre al comune soltanto 24 mila euro. Ancora nella città ovidiana, Via Turati, ritorna l'allarme di Sesto. Infine Roccaraso, strage dei Limmari, risarcimento più vicini. Siamo alla pagina di Chieti, Cipressi parla e si difende. Mi sono sentito aggredito, interrogato dal PM, il giovane accusato dell'omicidio di Via Pescara. Poi stagione di prosa al Marruccino, tanti nomi e qualità. Poi Chieti, Solidale, gestione delle farmacie comunali. I ricavi crescono di 130 mila euro. E poi si parla di cronaca, a scuole i cani fiutano la droga. Quattro giovanissimi nei guai. Lanciano, Ortona, Vasto, Porta San Biaggio, ecco i finanziamenti. Siamo a Lanciano, a Vasto, latri scatenati anche di giorno. Paura in via Cardone, a Ortona, scusate, screening e senologia. Convegno all'ospedale Bernabeo. Ancora a Ortona, le strade del centro, come una discarica. Lanciano, impianti sportivi, arrivano i contributi. Infine Vasto, pista ciclabile alla Marina. Pronto il piano. Allora, noi possiamo fermarci a questo punto per qualche attimo per vedere le previsioni del tempo per le prossime ore di Luca Mennella. Poi torneremo in studio, come sempre, per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6. Ripartiamo dalle pagine della cronaca di Teramo del centro. Acqua sospetta dai laboratori. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha sospeso l'utilizzo dei solventi. Il presidente della Ruzzo precisa nessuna contaminazione è stata immessa in rete. Dai numerosi campioni prelevati non è stata riscontrata alcuna traccia. Allora, possiamo vedere il primo servizio su questa vicenda con la denuncia del forum abruzzese dell'acqua. Vediamo. Le Santis, oggi denunciate un fatto grave che riguarda le acque del Gran Sasso con la presenza di solventi. Che cosa è accaduto? Lo scopriamo intanto dopo quattro mesi solo grazie a un comunicato stampa scarno della regione Abruzzo che dichiarava ieri l'emergenza idrica del Teramano. 100 litri di acqua al secondo non possono essere più mandati nei rubinetti dei Teramani ma devono essere mandati a scarico nell'ambiente, nei fiumi perché il 2 settembre c'è stata questa contaminazione. Ora, pare che il 2 settembre immediatamente sia stata mandata l'acqua a scarico quindi nei rubinetti pare che non sia andato a finire nulla però lo sappiamo da dichiarazioni sulla stampa non da documenti ufficiali e c'è stata una contaminazione delle acque del Gran Sasso. Bene, questo è un aspetto molto grave intanto che si viene a sapere dopo quattro mesi mentre ci sono degli obblighi di legge per tutti gli enti pubblici di avvisare i cittadini anche quando non c'è un pericolo diretto per la salute ma che c'è stato un problema. Il fatto che non si possa più caputare una quantità tale di acqua dal Gran Sasso ma bisogna andare a reperire col potabilizzatore già questo è una questione da chiarire, da dire ai cittadini anche perché paghiamo le bollette. Ora, l'aspetto ancora più grave è che sono passati quattro mesi il sistema Laboratori del Gran Sasso gallerie autostradali e anche quello che può avvenire a Campo Imperatore è un sistema complesso carsico dove la contaminazione potrebbe avvenire da uno o più punti. Allora, dobbiamo capire intanto se gli enti hanno avvisato immediatamente il Parco Nazionale la Procura della Repubblica il Corpo Forestale dello Stato e per accertare la fonte di questa contaminazione se è un aspetto singolare oppure che addirittura potrebbe insomma riguardare una contaminazione più ampia. E su questa vicenda è intervenuta anche la Ruzzo Reti il Consorzio Acquedottistico delle Acque di Teramo e Provincia. Andiamo a vedere il servizio. Lo scorso 2 settembre ha seguito delle consuete analisi nelle acque provenienti dalla condotta del Gran Sasso sono state rintracciate tracce di solventi il sistema di controllo che effettua analisi e immediatamente bloccato l'immissione dell'acqua nel circuito della Ruzzo il gestore idrico del Teramano. L'Asla ha vietato il prelievo di quest'acqua a divieto che persiste anche oggi il gestore delle acque della provincia di Teramo la Ruzzo Reti ha avanzato ora un'istanza risarcitoria nei confronti del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso per via dei maggiori costi sopportati nel processo di potabilizzazione. Una nota della regione Abruzzo aveva infatti dichiarato ieri lo stato d'emergenza idrico dopo la disposizione cautelativa emessa dalla Asla di Teramo per le acque provenienti dai laboratori del Gran Sasso. Il provvedimento ha ridotto la disponibilità idrica della sorgente del traforo che non è più in grado di garantire i volumi necessari per l'acqua potabile. Ecco ora la richiesta di danni da parte della Ruzzo ai laboratori. la Ruzzo però si è affrettata a spiegare che in questi mesi non è mai accaduto che acqua contaminata fosse stata immessa in rete e i sistemi di controllo lo impediscono. I sistemi di controllo presenti sulle captazioni del Gran Sasso qualora vi fossero stati problemi avrebbero mandato a scarico l'acqua che avesse presentato anche lievi anomalie spiega la Ruzzo. In realtà all'inizio di settembre nelle captazioni del versante aquilano furono rilevate tracce di un diclorometano seppur ampiamente sotto i parametri di legge. Prudenzialmente sia Ruzzo Reti che il Sian dell'Asla di Teramo hanno effettuato analisi sul pozzetto di derivazione situato in prossimità dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso analisi che hanno confermato che non vi erano superamenti dei parametri di legge. Cambiamo argomento restiamo sempre a Teramo corpo forestale dal procuratore di Teramo Antonio Guerriero rassicurazioni sull'accorpamento e poi il Parco Nazionale diventi patrimonio dell'UNESCO questa la proposta lanciata in questi giorni e poi cronaca movida violenta apprezzamenti non graditi a una ragazza scoppia la rissa nel pub 5 denunce poi si parla di scuole e di post-sisma la Noe Lucidi di Teramo riapre ma è polemica fra i genitori siamo alla pagina di Giulianova Roseto e della Val Vibrata partiamo da Giulianova la piscina comunale riapre a gennaio i lavori procedono lentamente perché sono state rilevate numerose criticità sempre Giulianova De Cinque Stelle campane a morto per il nuovo ospedale e poi in Val Vibrata chiude il ponte di legno via ai lavori di rifacimento a Roseto Piano socio-sanitario l'assessore replica di Bartolomeo risponde per le rime alle accuse lanciate dal consigliere recchiuti siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo però andare a vedere insieme invece le pagine che riguardano il quotidiano La Città di Teramo partendo ovviamente dalla prima pagina per vedere quali sono i titoli principali nel quotidiano oggi in edicola si parla di ovviamente della vicenda del proprio di quello che è accaduto proprio nel servizio che abbiamo appena visto che riguarda l'acqua e il pericolo di contaminazione vedete la fotonotizia il caso pericolo infondato per la contaminazione delle acque del Gran Sasso questo è il titolo principale tutti zitti sull'allarme gli ambientalisti accusano scarsa trasparenza sull'incidente del Gran Sasso e poi la cronaca si picchiano fuori dal pub per una ragazza rissa nel centro di Teramo 5 denunciati e poi lo sport il Teramo Zauli cuce il numero 10 sulle spalle di Di Paolo Antonio il trequartista può farlo bene allora andiamo a vedere le pagine interne partiamo dalla cronaca regionale pagina dedicata all'Abruzzo la camera notte di vicinanza ai terremotati una folta delegazione teramana partecipato al concerto di Natale dell'Accademia di Santa Cecilia e poi il caso infondato dell'acqua contaminata tutti zitti sull'allarme scattato a settembre per un cortocircuito burocratico tre mesi e mezzo di silenzio sul problema avvenuto nei laboratori di clorometano o cloruro di metilene un composto chimico largamente utilizzato come solvente per la chimica organica e poi sospeso intanto l'uso di clorometano la sostanza è stata impiegata per ripulire i rilevatori degli esperimenti proseguiamo c'è anche in pagina 5 un approfondimento su questa vicenda abbiamo visto a tal proposito due servizi e poi ancora il caso infondato dell'acqua contaminata gli ambientalisti chiedono più trasparenza le rassicurazioni non bastano e dicono gli ambientalisti perché non sono state fornite fin da subito tutte le informazioni e siamo a Teramo cronaca si picchiano fuori dal pub per una ragazza 5 studenti universitari di Teramo e Corropoli denunciati per rissa dei carabinieri e poi università chiusura tecnica per la mensa del campus l'unione degli studenti protesta il corpo forestale brinda al nuovo corso il bilancio dell'attività del 2016 illustrato dal comandante Mancini prima della fusione con l'arma dei carabinieri e poi guardia di finanza il colonnello Carlo Bergamo lascia il servizio attivo ancora avanti pagina 9 sempre dalla cronaca di Teramo il musicista Melozzi di nuovo a processo è stato denunciato per diffamazione da 17 membri per le critiche rivolte all'istituzione sinfonica abruzzese e poi l'iniziativa che viene presentata in questi giorni in carcere torna la Kermes voci recluse poi terremoto altre due chiese dichiarate inagibili per i danni del sisma proseguiamo parliamo in questo caso anche della nostra emittente lo vedete dal titolo principale di pagina 11 taglio del nastro per la sede teramana di tv6 festa con autorità e giornalisti ieri negli studi rinnovati di viadelfico sede della consf.com vedete la foto con la presenza delle autorità proprio all'inaugurazione al taglio del nastro della sede della redazione di Teramo della nostra emittente vedete il nostro editore Quintino Pallante assieme ai nostri colleghi e alle autorità che hanno partecipato al taglio del nastro e poi si parla di scuole in basso lanciata la quarta campagna per scoprire i disturbi dell'apprendimento screening DSA il lancio è un successone andiamo ancora avanti nelle pagine interne del quotidiano la città siamo alla cronaca della provincia Pastinella resta isolata nonostante i lavori concluso l'intervento sulla frana nella frazione di Campli ma mancano i soldi per ricostruire la strada e poi si parla di viabilità l'ANAS sistema le strade statali della provincia di Teramo e poi per quanto concerne gli edifici pubblici un milione di euro per l'efficientamento energetico siamo alla pagina della Val Vibrata stazione sempre più vicina Martinsicuro D'Alfonso chiama in rete Ferrovia Italia e Trenitalia questa chiamata in diretta del governatore della nostra regione la stazione ferroviaria di Martinsicuro è un'opera necessaria per una città che viva di turismo poi siamo ad Albadriatica tempi bilibici per la nuova rotatoria nuovo attacco della Diadezio contro il sindaco Tonia Piccioni proseguiamo Albadriatica è una barista la donna travolta dal treno due notti fa si tratta di una bielorussa di 48 anni scusate che da diverso tempo viveva ad Alba Adriatica andiamo ancora avanti pagina di Giulianova Mosciano Giulianova in arrivo il nuovo taglio della Tari la differenziata tocca il 70% il sindaco Mastromauro annuncia il calo delle tariffe e poi il comune applica la Bolkstein ridefinisce i posti degli ambulanti in basso sanità l'ospedale è diventato solo uno scatolone vuoto il movimento 5 stelle attacca il manager Fagnano parla per conto di D'Alfonso dicono i grillini siamo la pagina di Silvi il padre del piano regolatore contrario all'approvazione per l'ex assessore all'urbanistica Gianni Mancinelli il piano è stato del tutto stravolto da Valle Scura poi Roseto guardie ambientali per combattere il fenomeno di stariche abusive in basso Pineto accordi con la Moldavia per rilanciare l'economia e poi Isola del Gran Sasso si rinnova la tradizione dei mercatini di Natale oggi e domani appuntamento con la quinta edizione dell'iniziativa proposta dalle associazioni locali e poi pagina della cultura se gli scatti diventano bacini di stupore all'ipogeo la mostra fotografica di Piero e Pasquale Angelini su Abruzzo Marche e Molise siamo ancora alla pagina della cultura con questa doppia intervista Paola Gasman e Ugo Pagliai ogni attore sogna di poter incontrare gli dei sul palco il teatro il cinema e la televisione fra i maestri di ieri e i divi di oggi due protagonisti si raccontano in questa pagina in questo articolo curato dal quotidiano La Città siamo arrivati così alla pagina dello sport che riguarda il Teramo Calcio in particolare parla il trainer Bianco Rosso Lamberto Zauli che cuce il 10 sulle spalle di Di Paolo Antonio il tecnico dice ho giocato in quel ruolo Alessandro può farlo molto bene Sansovini nessuna bocciatura e poi vedete uno speciale che riguarda il San Nicolò squadra che comanda il Girone F del campionato di Serie D il 2016 è stato un anno di grande crescita il presidente Biancazzurro Salvatore Di Giovanni traccia un bilancio dell'annata e formula a tutti i migliori auguri e possiamo passare ora le pagine dello sport del centro e del messaggero partiamo proprio dal quotidiano il centro che apre ovviamente con il Pescara tra campionato e mercato Denis Pescara avanti tutta l'argentino ex Atalanta vuole tornare in Italia e ci sono le piste Budimir e Ibarbo e poi i ricordi del brasiliano Togni punizione e vittoria fu una notte magica per me e il Pescara il brasiliano quattro anni fa firmò in extremis l'ultimo successo casalingo dei Biancazzurri in Serie A e poi Sebastiani Mizukov non lo conosco l'attaccante russo dice è fatta a gennaio sarò a Pescara ma il club smentisce seccamente la dichiarazione del giocatore proseguiamo Serie A stasera Juve Roma Allegri un pari non firmo Spalletti nemmeno io e poi si parla di Lega Pro Zauli Teramo voglio continuità basta alti e bassi a proposito di Teramo andiamo a vedere da questo specchietto del quotidiano il centro quali sono le partite in programma nella giornata di domani si gioca e si disputa la diciannovesima giornata gare che si giocheranno in diversi orari Ancona Forlì Bassano Virtus Fano Lumezzane Padova Modena Gubbio Pordenone San Benedettese una delle gare più attese il derbissimo Reggiana Parma Sant'Arcangelo Albinoleff Sud Tirol Mantua Teramo Feralpi Salò dirigerà Fiorini di Frosinone al Bonolis fischio d'inizio previsto per le 14.30 e poi Venezia Maceratese vediamo altri titoli dallo sport del centro si parla di calcio regionale Ortolano confermato a capo dei dilettanti per acclamazione assemblea regionale a Montesilvano e poi ciclismo oggi le votazioni Marrone guiderà il ciclismo della nostra regione anche per i prossimi quattro anni e poi elezioni federazione ginnastica la Dottavio a sostegno di Chechi la Teatina in Lizza per le nuove elezioni e poi siamo alla serie di il Chieti domani non gioca poi si vedrà abbiamo detto lo abbiamo visto anche dalla prima pagina del centro anche del messaggero è stata non si disputerà come comunicato dalla Lega Nazionale dilettanti la gara in calendario domani alle 14.30 tra i Neroverdi e l'Alfonsini andiamo a vedere dunque dai gironi F e G quali sono le partite che si giocheranno domani partiamo dal girone F Chieti Alfonsine che non si disputerà e poi Fermana Iesina Matelica Pineto Monticelli San Maurese Olimpio Agnonese Vastese Re Canatese Romagna Centro San Marino Castelfidardo Civitanovese San Nicolò Bispesaro Campobasso nel girone G Albalonga Arzachena Avezzano Torres Foligno Sansepolcro Flaminia Città di Castello Sassari L'Aquila Muravera Ostiamare Luorese Lanusei Sant'Eodoro Rieti Trestina Monte Rosi vediamo anche il calcio a 5 perché il Pescara si riprende il trono della Serie A cinquina al Napoli nello scontro diretto di ieri sera poker dell'Acqua e Sapone a Ferrara quinta vittoria di fila dunque giornata trionfale per le nostre formazioni Pescara batte il Napoli e torna in testa l'Acqua e Sapone arriva al quarto posto andiamo ancora avanti l'ultima pagina di sport del centro riguarda il basket basket maschile di Serie A2 di Paolo Antonio attenti ai dettagli domani si gioca la tredicesima giornata il coach Rosetano il sogno della Coppa pensiamo a una gara alla volta a Ravenna bisogna sfruttare ogni minimo errore poi rugby l'Aquila gioca per il primo posto Gran Sasso forse fuori Dettua e poi volley Virtuosor Sonia Coget Chiedi il derby femminile della Serie A2 possiamo passare alle pagine dello sport del quotidiano Il Messaggero poi chiuderemo con i titoli dei tre quotidiani sportivi e nazionali oggi in Edicola tra poco tra l'altro torneremo a parlare del Chiedi nel servizio di Andrea Costantini proprio per fare il punto della situazione su quello che sta accadendo in terra Teatina come detto e come comunicato dalla Lega Nazionale di Lettanti non si giocherà la gara in calendario domani che era in calendario domani per le 14.30 al Guido Angelini fra i Neroverdi e la formazione Ravennate dell'Alfonsine e poi bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni allora ripartiamo dal Pescara Pescara che cambia faccia per la partita a Casalinga domani contro il Bologna Oddo potrebbe puntare su un nuovo sistema di gioco il tecnico in settimana ha provato sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1 in ogni caso schiererà il giovane Manai al centro dell'attacco e poi gli avversari il Bologna di Donadoni che deve scegliere tra Navi e Viviani e poi il Teramo dunque la Lega Pro nel Teramo Zauli pronto a rilanciare Sansovini e poi il calcio a 5 come abbiamo detto anche visto dalle pagine del centro per Delfino Pescara e Acqua e Sapone una serata da incorniciare il Pescara che ha battuto il Napoli 5-1 vittoria anche per l'Acqua e Sapone che vince 4-2 la sua gara con il Caos Futsal Pescara primo in classifica Acqua e Sapone al quarto posto e poi nella pagina seguente il futuro del Chieti è un rebus domenica niente partita come dicevamo con l'Alfonsine il giudice deciderà sull'esercizio provvisorio ma per fare il punto su questa vicenda andiamo a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini Chieti e Alfonsine non si giocherà l'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio sul sito della Serie D nel quale si fa presente che la partita programmata per domenica allo stadio Angelini di Chieti ore 14.30 non si svolgerà in quanto il giudice delegato al fallimento della SSD Chieti Calcio ha formalizzato la rinuncia alla disputa dell'incontro come se non bastasse sempre oggi il comitato interregionale ha preso atto della sentenza di ieri del Tribunale Federale Nazionale che ha inflitto alla SSD Chieti Calcio un punto di penalizzazione in classifica e l'indibizione per sei mesi al presidente e rappresentante legale protempore Aldo Savastano pronunciamento relativo al deferimento dello scorso 26 ottobre operato dalla Procura Federale per il mancato pagamento dell'attaccante Antonio Broso che rivendicava una somma pari a 4.200 euro in porto che la società non ha integralmente liquidato nei termini previsti lo scorso aprile per cui è che può contare il Chieti scende a quota 0 punti in classifica che diventerà meno 1 la prossima settimana per la sconfitta a tavolino con penalizzazione che sarà irrogata per la mancata disputa della partita non essendo stata ritirata la squadra i risultati del girone d'andata saranno preservati il campionato poi riprenderà l'8 gennaio e nel frattempo la curatela fallimentare che fa capo alla commercialista Maria Nicola Corvacchiola e il giudice delegato verificheranno se esistono i presupposti per cui il Chieti possa continuare a giocare oppure no andando incontro in quest'ultimo caso alla esclusione dal campionato con radiazione dalla federazione per continuare a giocare e mantenere in vita il titolo sportivo però il Chieti avrà bisogno di un sostegno economico esterno che d'accordo con la curatela permetta alla squadra di affrontare il minimo di spese di gestione corrente per arrivare a fine campionato altrimenti questa nefasta stagione potrà considerarsi al capolinea l'ultimo titolo dalle pagine dello sport del messaggero parla l'ultimo arrivato il ne acquisto in casa all'Aquila all'Aquila non si può dire di no parla Steri che dice è una scelta di vita ma anche professionale con il rosso blu voglio tornare in Lega Pro ovviamente parleremo di calcio a tutto tondo nei due appuntamenti di domani come ogni domenica dalle 14 e 20 con Andrea Costantini in studio collegamenti diretti dai campi della Serie A e della Serie D per diretta stadio poi domani sera alle 19 e 30 l'approfondimento con tutti i servizi su Pescara Bologna e su tutte le partite delle formazioni abruzzesi del Teramo di Lega Pro e di Serie D nel corso dell'Abruzzo del pallone che partirà come sempre alle 19 e 30 con Jacopo Forcella possiamo andare a vedere come dicevamo e chiudere l'appuntamento di oggi con Mattino 6 con i titoli dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola proprio per chiudere con lo sport nazionale dopo aver visto cosa succede in casa nostra partiamo dal Corriere dello Sport Juve Roma Mondiale sfida scudetto senza confini in campo campioni di 20 nazioni gara che si vedrà in 84 paesi in alto il Napoli è il numero 9 Pavoletti fa già le visite l'ex giocatore del Lanciano dunque a proda in casa partenopea De Laurenti sconferma e Milic corre verso il rientro e poi parla l'ex tecnico del Pescara Giovanni Galeone senza fantasia non c'è calcio basta algebra si deve liberare tutto il bello dei gesti tecnici il mio Allegri un vero leader ma ogni tanto ancora lo sgrido Allegri che lo ricordiamo è stato giocatore del Pescara e poi altri titoli che riguardano la Serie A ore 15 oggi Empoli Cagliari il Milan alle 18 sfida e studia Papu Gomez ci giocherà infatti la sfida di San Siro tra i rossoneri e i nero azzurri e possiamo andare a vedere allora proprio dalle pagine del Corriere dello Sport le gare della diciassettesima giornata del massimo campionato come detto il Pescara giocherà domani alle ore 15 allo stadio Adriatico con il Bologna possiamo vedere tra qualche istante le partite in calendario in questa giornata di campionato appena sarà possibile visualizzare sulla pagina del Corriere proprio le gare di questa diciassettesima giornata come detto uno degli anticipi di oggi Empoli Cagliari poi si giocherà la gara di San Siro tra Milano e Atalanta e poi come detto l'attesa sfida fra Juventus e Roma poi domani il resto del programma ricordiamo che tra l'altro si tornerà in campo poi per l'ultima gara del 2016 il 22 dicembre con il Pescara che sarà di scena le 20.45 gare che si giocheranno in notturna allo stadio Renzo Barbera di Palermo in un nuovo scontro salvezza andiamo a vedere allora anche il titolo che riguarda la Serie B perché ieri è stato Frosinone Trapani travolto in casa la formazione di Calori sempre più ultima in classifica pensate il Trapani lo scorso anno arrivò ad un passo dalla promozione in Serie A nella sfida della finalissima playoff con il Pescara quest'oggi desolatamente ultimo nel campionato di Serie B e poi Pisa che caos Avellino trema andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport prova di forza si parla di Juventus Roma in alto Cina-Milan svelati i nuovi padroni sono nove società da mille miliardi e oggi è baby boom con l'Atalanta chiudiamo con tutto sport match point alle 20.45 lo scontro al vertice allo stadium la Juve può portarsi a più 7 sulla Roma e compiere un altro passo verso il sesto scudetto di fila Allegri dice come fossimo solo a più uno Spalletti risponde al ritorno la sfida decisiva la chiave tattica si chiama Pjanic Milan gioielli a San Siro sfida con i nerazzurri tanti i giovani in campo infine l'ultimo titolo su tutto sport non poteva che riguardare il Torino Tonelli e Grassi il Toro stringe si parla anche di mercato siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di sabato 17 dicembre con Mattino 6 l'ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che tornerà ovviamente puntuale lunedì prossimo alle 7 io ringrazio voi per averci seguito Maurizio Dagui in regia vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della giornata come sempre le nostre edizioni del TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito